E 1, 2, 3, siamo in diretta, aspetta, sistemo un attimo la telecamera, eccola che cade E qua è tutto un sistema complesso di leve e specchi, praticamente l'ho appesa alla mia bajour, perfetto Quindi terza parte di Resident Evil, scusate l'assenza che al venerdì scorso era festa, mi sono... Sono uscito perché anch'io, per la festa anche per me, insomma, ecco Però, senza indugio, continuiamo con la terza parte, facciamo un refresh del salvataggio, alzo un pochino da me E siamo qua, già ho perso 37 secondi, allora F3, sì Quindi siamo su Resident Evil, siamo arrivati alla casa del custode per chi ha seguito le precedenti puntate Adesso un attimo intanto che vi spiego l'inco, come al solito, a chi di dovere E siamo, si avviamo verso la seconda parte del gioco Che poi, chissà, magari per la fine dell'anno io vorrei finire questo director's cut Per poi raggiungere il secondo capitolo ad anno nuovo con Resident Evil 2 Che faremo poi la versione canonica, poi vi spiego quando è ora Bene Vado su la chat Che se no, sì, apro con l'applicazione Niente, stavo rispondendo a un commento su YouTube Che questi giorni, anche se non ho streamato Stavo nella mia vita normale, stavo giocando Aspetta, devo mettere l'emulatore se non riesco a giocare A Dark Soul 2 F3, ok Quindi ho la chat, ho tutto a posto Aspetta, sistemo un attimo la finestra dell'emulatore Così che ho tutto preciso Perfetto Mi si dovrebbe sentire tutto Quindi dicevo, stavo rispondendo a un commento Ho messo dei video a caso di Dark Soul 2 Perché ci stavo giocando E pare che uno è andato un po' virale più del solito E la gente mi stava scrivendo che i boss non erano belli Però alla fine a me sta piacendo comunque in ogni caso Ok, niente Chi diceva che i boss fanno talmente schifo sul 2 Ma non è vero A me è piaciuto molto il 2 Certo, non c'ha lo stesso mood del primo Dark Soul Vabbè Quindi abbiamo salvato Perché non ho Link Ribbon addosso Ah, forse perché dopo l'ho rimesso a posto Vabbè dai, senza indugio, continuiamo Siamo alla casa del custode Comunque stavo pensando Noi la domenica con dei miei amici Giochiamo a dei giochi da tavolo Che sono una specie di escape room, no? E mi ha ricordato molto Resident Evil Tu devi abbinare degli oggetti a delle cose dove interagire Poi abbiamo il Gargoyle E hai detto ma questo è Resident Evil praticamente Perché come funzionano questo tipo di giochi? Tu... È tutto un mazzo di carte che viene svelato piano piano Però tipo tu magari sveli una location E in questa location trovi una chiave Tutte le carte sono numerate Metti in caso la chiave E hanno dei colori I colori rossi vanno abbinati Le carte rosse vanno abbinate alle carte blu Se io per esempio ho La carta della chiave Che è la 12 E penso che vada in quel In quell'armadio Che è il 24 blu Io devo pescare la carta 36 Se è giusta Il gioco mi fa trovare un oggetto Altrimenti mi dice che è sbagliata Quindi mi ricorda Questo tipo di gioco da tavolo Mi ricorda Resident Evil Quindi io vado ad esplorare un attimo qua Qua c'è il bagno se non sbaglio Ahia qui qualcuno ha giocato MH1 Oh madonna ma sta andando virale un sacco Sto video che ho messo per scherzo di Dark Soul Ma io l'ho messo così Perché stavo cazzeggiando con un mio amico una sera Vabbè Ah Non c'è nessuno zombie Allora solo sulla remake C'è quella scena che vi ricordate The Sea Room Che Adesso noi la La esaminiamo Per capire Dovrebbe essere l'abbreviazione di Control Room A Curving of the Moon Addirittura della Luna Però Sea Room Dovrebbe essere Control Room Bellissima la musica Di questa Casa del Custode Dunque ciao Chiunque tu sia Poi oggi cerchiamo di Ho iniziato un po' presto Che dopo Che poi stasera Devo andare via Oh mamma mia Ostico Non è ancora morto Vabbè Vabbè Oh Quanto devo smanettare È stato abbastanza Tosto questo zombie Orco zio Ha fatto la pozza Sì Quindi vuol dire Che è morto Andiamo un attimo Vabbè Finiamo di esplorare qua Qua dovrebbe essere La stanza da letto Del custode Se non ricordo male C'è un libro Palesemente poligonale Ah il libro rosso È vero Mi ricordo Sta storia Nothing important Però se io Lo giro Da questo lato In teoria Oh il pager bag Per cos'è Sono bianche Cosa serve A questo Sai che non mi ricordo È cambiato il nome No Sempre a blank book Stavolta Niente di insolito Adesso ci andiamo a curare Appena Possibile Niente da fare Ah qua c'era la mappa No Poi l'abbiamo già presa Noi la mappa Del Della casa Della guard house Vedete che si è evoluta Anche Quella mappa lì Si sente tutto bene Spero di sì Quindi torniamo un attimo Alla Qua no Aspetta Non sai che non ci sto Ok Se no Mi stavo confondendo Sembrava che era in circolo In verità è solo un corridoio Andiamoci un attimo a curare Perché Se no qui C'avevo uno spray Vero di scorta Poi cominciamo ad avere Poi cominciamo ad avere un po' Troppo oggetto Io quasi dropperei la manovella Che in teoria non ci serve E' un'altra volta che c'è un'altra volta che c'è un'altra volta che c'è un buco che c'è un buco che ci frega Quindi qual è la soluzione? Quindi qual'è la soluzione? Tanto carico è solo per farvi vedere C'è questo gargoyle Che noi possiamo utilizzare Per Qua ci sono le piantine Per riempire il buco E andiamo avanti Dopo rispondo ai commenti su youtube Che Quel video che dicevo che ho Ho fatto quel boss Così tanto per di Dark Soul Che mi ricordava una scena di Monster Hunter E anche perché mi era piaciuto il combattimento L'ho salvata in una clip Però Perfetto eh E la gente Non lo so Stamattina mi sono svegliato Refresciato E c'erano un botto di views Non so Forse perché dura poco Il titolo è simpatico La gente Anch'io Ne guardo Spesso di questa tipologia Benissimo E quindi qua Abbiamo sbloccato questa parte Però prima di andare lì Volevo vedere cosa c'era qua Ci scommetto che c'è la sala del biliardo Se ricordo bene Con Dei mosti che non mi piacciono molto Perché soffro di arachnofobia Vediamo Perfetto Alla sala del biliardo In verità c'è un flipper It's broken Però loro In verità Non fanno Attacchi così pericolosi A free ball Perché vedete Le stecche sono messe In una maniera Sì lo so che c'è un ragno assassino E look like a clock dial Esatto Qua te lo dice 9, 5, 8 Perché 9 di qua 5, perché 8 9, 5, 8 Scusa è 9, 9 La sala 12 No? A free ball Vabbè Tanto mi ha preso Sì ma non mi ha fatto nulla Ah sono bloccato io qui Devo per forza passare qui Ma se non sbaglio Cosa c'era Cosa c'era? Lontano un miglio Poi c'era una 9, 5, 8 Vabbè noi ce lo teniamo a mente In ogni caso Ecco infatti F3 Facciamo F3 E ci leviamo Dalle scatole Instant Ci torniamo col pompa Magari Poi intanto Adesso ci torniamo Con Kalman Vabbè che non sono forti Nel senso Bastano dei bei colpi Di shotgun assestati Sì perché mi ricordo Che c'era un Un enigma Basato su quel Tavolino Tavolino 9, 5, 8 Effettivamente Ha funzionato Quindi semplicemente Bastava leggere Non è che dovevi Intuire te Oh Era meglio che liberavo Un po' di slot Che adesso qua C'è da fare Dei giochetti No Perché io ho capito Sì Vediamo cosa serve L'empty bottle Qua ce n'è un'altra Ok 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 esattamente Sono degli appunti Incisi proprio Nel legno Anche se La texture Non ci permette Esattamente Di capirlo Praticamente Acqua 1 Di red Ne mettiamo 2 Purple 3 E green 4 Niente Questa è un'altra Vero Fammo di no Per ora Perché devo capire Dove riempirle Prima Qua c'è un'altra Formula Forse 1 più 2 Più 3 Uguale 7 Ah quindi 1 che sarebbe Water Più 2 Che è il red Uguale 3 Quindi noi dobbiamo Creare 4 soluzioni Finora Far arrivare A 13 Più 3 Uguale 16 Quindi creiamo La soluzione numero 1 Sarà 1 Più 2 La soluzione numero 2 Purple più green Che sarà 7 La seconda è Red No aspetta Sì la seconda è Red e green Che farà 6 Poi quello che ci è venuto Con la seconda E con la terza Le uniamo Viene 13 E poi quella da 13 La combiniamo con quella Che è venuta Con 1 più 2 Che è la 3 Farà 16 Quindi Mi sembra Abbastanza Semplice Questo enigma Però io ancora Non ho La situazione necessaria Torno un attimo A depositare Degli oggetti Voilà Sembra più complesso Invece Sono dei calcoli Veramente Semplici Però dici Perché lo devo fare Giustamente Capiamo un po' Il contesto Non lo so Cioè A livello di storia Ancora non lo sappiamo Però siccome Questo è un gioco Che non ti fa fare Cose inutili E quindi c'è un po' Di metaplay Perché No questa è una cosa Che stavo ragionando Adesso Perché in effetti Io se sono in una casa Me ne sbatto Delle Empty bottle No qua Vado via Volevo andare qui Deposito sia L'accendino Perché dopo Mi sa che ci sono Queste soluzioni Effettivamente Si possono trovare C'è la red La green La green E la 4 Purple E la 3 Mi pare Quindi mettiamo via Guarda la roba che c'ho Per mille Sono pronto Per mille boss Non so se depositare Un quarto oggetto Tipo Questo Purtroppo E che sono Grande amante Per risparmiare Qualche colpo in più Però Siccome servono Quattro bottiglie E comunque Guardavo nell'anteprima Che comunque Non ho spazio Per quattro Ah no Perché una Già ce l'ho Perfetto E Si dai Andiamo a capire Più avanti Perché io qua C'era un pezzo Che era un po' Insidioso Mi ricordo Quindi Lì si fa Quel giochetto Delle bottiglie E devo creare La soluzione Numero 6 13 Dunque la mappa Se non sbaglio Era La mappa Del guard house O l'ho presa La puntata scorsa Ma non mi ricordo Perché sono passate Ben due settimane Qua mi ci fa andare Subito Sembra che Ostruita Da qualcosa Che spinge Dalla direzione Opposta Qualcosa del genere Io infatti Mi ricordo Cosa c'è qui Ma noi The plate E non è con la chiave Che abbiamo Ecco qua C'è qualcosa Di strano C'è Ci sono Seguire su una ape Guardiamo Ah Poi c'è scritto 002 Il dormitorio Fami capire Una cosa Sulla mano Lì è la sala Da biliardo Il dormitorio Potrebbe essere Questo qua C'è scritto 002 Quindi Perché Ah qua c'è da spostare Un gargoyle Però adesso vediamo Ah Ce la fa scartare Subito Perché Giustamente Ok Let's go E qua allora Che c'è la mappa Oh infatti Perché È molto simile Alla stanza Di prima Pianta 42 Sono passati Quattro giorni Dall'incidente E la pianta 42 Sta crescendo Molto velocemente Che sia quella cosa Che sta ostruendo Quella porta Forse sì Forse no Perché è stata Vabbè Coltivare Giustamente Questi scienziati Stanno usando Questo Tivarius Però non so Se è la prima volta Che noi ne sentiamo Parlare A livello di Lord Quindi si sta Si sta formando In un unico aspetto Un'unica shape Oltre che Nelle dimensioni Sta crescendo tantissimo Questa pianta E dal modo in cui si comporta E dal modo in cui si comporta Sembra difficile determinare Che pianta fosse Originariamente Quindi ci sono Diversi No diversi Due modi In cui la pianta 42 Accoglie I suoi Si nutre In due modi Quindi Uno è Dalle radici Dal piano Dal pianterrino Da sottoterra Insomma Ah perché uno scienziato Ha dato di matto E ha rotto Una bacinella Di Insomma Un contenitore di acqua E quindi il basement Adesso è Il sotterraneo Insomma Il piano Sotterraneo è allagato Quindi Quindi immaginabile Che molti elementi chimici Si sono sparsi nell'acqua E hanno fatto crescere Questa pianta Giustamente Quindi un'altra cosa Ci sono dei bulbi Che arrivano Dal Dal soffitto No aspetta Non ho capito Perché stavo leggendo Veloce Many vines Come out of those bulbs Quindi questa è la loro Seconda Questi bulbi Sono la sua seconda Fonte di nutrizione Ah cos'è Ho capito Loro Sentono dei movimenti E catturano gli insetti Quindi una specie di pianta carnivora Da questo lato Quindi si nutre Sia come Con l'acqua Che con Mangiando Insomma Sucking blood In the back of its vine Vine sono le fruste Le radici Insomma come dire Quindi sembra avere una sorta Di senzienza Non so se si dice Di intelligenza Perché non voglio usare Le stesse parole tradotte Esatto Infatti dice che blocca la porta Ok Ok Molti scienziati Dello staff Insomma sono già morti Interessante Bello leggere questi file Che io da piccolo Non li leggevo mai Però comunque Da grande ci avevo giocato L'avevo già letti Ok Dove mi trovi sketch Yes Certamente Mi immaginavo E cosa trova Jill Ah un po' di così In tel cassetto Ci sono Allora Dei proiettili Riprendo Sì Poi tanto Ci devo comunque passare Al Al baule Dopo mi scordo Che ci io qua Qua ovviamente Cosa succede Si può spostare Qua Però ho sbagliato Devo già Dare prima in mezzo Però se noi risettiamo Per risettare Approfittiamo Per vedere Cosa c'è nel bagno Il bagno Era occupato Cos'è un clip Ma dai Ma te ne danno A go go Bella sta inquadratura Mi piace assai Quindi niente C'era solo un clip E uno zombie Quindi ci abbiamo Guadagnato Fondamentalmente Torniamola A capire Comunque buonasera Che si fosse Sintonizzato Con questo Imbrunire E Vento Fuori A godersi un po' Di cosi Resident Evil Qua non mi ricordo Come dovevi fare Un po' Sia così E poi così Però già andiamo giù Dai si andiamo giù Cosa abbiamo appena letto Poco fa Che il basement È allagato No Ma bellissima Sta soundtrack Giustamente Non possiamo Proseguire oltre Dobbiamo sfruttare Questi qua Ma io questo Non lo sposto Subito Perché Devo fare un magheggio Queste No ma in verità Era uguale No infatti è uguale Conviene che lo sposto Pensavo di dover Sfruttare questo In primo piano In verità no Da solo Che fastidio Quindi Lo posso già Spostare Perché se lo avessi Spostato Come era Al principio Dopo Non potevo Spingerlo Da Dalla destra Dello schermo A sinistra E quindi Ho dovuto fare Quel trucchetto Ecco Non c'è Essere un po' Allagato Qui Oggetti a caso Però ormai Andiamo avanti Qua meglio Correre Meglio Correre Che fatica Che che c'è Ho usato La control Loom Keeper Entrare Perché c'è Uno squaro Effettivamente C'è tutto In questo gioco Si la scartiamo E entriamo Al sicuro In questa Oh Come vi dicevo I cani Si chiamano I serbrus Io Un po' Mi ricordo I nomi Dei body Delle B.O.V. Delle biological Weapon Lo squaro Si chiama Neptune E' uno Squaro Mutato Sempre da Lambell Quindi Siamo in quest'area Allagata Abbiamo svuotato Il basement Si può rimettere l'acqua? No Perché è solo una leva Per svuotarlo Effettivamente Questo suo remake Fantastico Hanno fatto tutta una cosa A tempo Mentre lo squalo Tipo La location E' molto differente Qua cosa c'è? Un tastino E poi noi premiamo tutto Che ci frega Ah C'è stato un suono Dalla porta accanto Perché si vede Che Vi ricordate no? Che non c'era neanche Quando lo squalo Ci inseguiva Io ho cliccato E c'era scritto Che non c'era un buco Per la serratura Adesso vi faccio vedere Che fine ha fatto Neptune Guarda eh Ecco non mi avvicino troppo Perché Eccoli Neptune è quello più grosso Comunque da piccolo Me lo ricordavo gigante Cioè su remake E' enorme Poi c'è una delle instant kill Più belle del gioco Ali buonasera A chiunque Si fosse sintonizzato ora Quindi Neptune Battuto così No Sono tutti bagnati E inutili Però I clip Li possiamo prendere Faccio un Un resume Un resoconto Per chi si fosse connesso Da O adesso O poco fa Insomma stiamo Giocando Quest'inverno Ho deciso di svernare Con la saga di Resident Evil L'anno scorso Abbiamo fatto Tutti i Castelvania Classici Ed è stato Abbastanza seguito Sono stato molto contento Perché Ho fatto anche Di alcuni capitoli Non c'erano Diciamo Una retrospettiva italiana Passo passo Insomma Qua luccicava qualcosa Quest'anno Ad esempio Perché mi piace molto Questa sarà la 003 sicuro E quindi Mi piace molto Mi rilassa un sacco Stiamo usando Un emulatore Chiaramente Però il gioco Io ce l'ho Non ho la Director's Cut Che è la prima volta Che la gioco Ho giocato Al gioco base Per Playstation 1 Al tempo Quando ero piccolo E la versione DS Che si chiama Deadly Silence Che è molto figa Oh ma quanti ce ne sono Ma cavolo 21 colpi Di pompo Sto giocando A modalità normale Neanche quella Analizziamo Un attimo Questa Dovrebbe essere La 003 Vediamo Esattamente Il numero 003 Quindi possiamo andare In quella porta Che abbiamo visto Nella stanza Delle api No Cont'è rilassante Sto gioco Se volete Porre qualche Quesito Io sono Ben contento Di rispondere Se lo so Chiaramente Però comunque Su questo tema Sono abbastanza Preparato Insomma O anche Off topic Di qualche gioco Insomma Io ho paura Che mi fanno danno Però prima di andare via Io volevo andare a vedere Cosa c'era in questa porta blu Che non ce la stiamo Scordando Ah Ho capito Perfetto Queste dovrebbero essere Le famose Radici Di plant 40 Plant proprio Di plant 42 O pianta 42 Per gli amici Vediamo se mi fanno Del male It's look like a plant loot Sono 2D Non riesco a capire Si sono Piatte Comunque Però Messe anche In 3D Ok Guarda lo scolino Bello lì Ok Molto bella Questa palette Quindi lì sono le radici Forse ci dovremmo Far qualcosa Per poter Passare Ma adesso abbiamo Una nuova chiave E possiamo andare su In quella Stanza 003 Se non sbaglio Ci dovrebbe essere Una delle poche Cazzine del gioco Non come quella Dello squalo Che abbiamo visto Che era in full motion video Aspetta Mi prendo Una piantina No Tanto ci devo Ripassare qua Poi in caso Fammi pensare No Tanto mi fa Scartare la chiave Quindi dai Una ne prendo Per dopo Uno dei pochi Eventi Che ci sono Nel gioco Oggi ho cominciato Un po' prima Che stasera Ho una serata GDR Quindi In ludoteca Quindi devo fare Presto Yes Perfetto Penso che Si Andiamo Ecco qua Ci dovrebbe essere Un evento Se non ricordo male E questo è una stream Che mi dà proprio gusto Fare No Mi ricordavo qui Mi fa invece Andare a vedere un attimo Cosa c'è nel gargoyle E qua mi ricordavo Che c'era un dialogo Ma forse Mi sto sbagliando Vedi che mi ostruisce La strada Semplicemente per accogliere Una piantina Sì Non sembra esserci Alta Va bene Comunque Di cure Ne abbiamo Volendo Aspetta Mi son perso Perché sono qui Lì c'è il salvataggio Lì c'è il coso Ah no Devo andare Infatti Sono andato troppo indietro Era l'altra porta Giustamente Non dovevo andare Così lontano Qua dovevo andare Madonna Si bolle oggi Esattamente Quindi ce la farà scaratare Come previsto Yes Un'altra stanza Similare a quella Che abbiamo già visto Con nemici Una fila di libri rossi E noi prendiamo Quello bianco Chiaramente Vjolt Report Ecco Importantissimo Cos'è il Vjolt E come abbiamo visto Nell'ultimo Insomma Nell'ultimo studio Ci sono Aspetta Fammi leggere un po' Poi traduco Sono delle cellule infettate Del virus T Sono delle feature particolari Abbiamo trovato interessante Tra l'altro Gli esperimenti Cioè hanno trovato Delle cose in comune Con tutte le cellule infettate Dal virus T Che vuol dire Tire ant virus Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto Che c'è un elemento Che distrugge Queste piante Rapidamente UM B number 16 Che forse Saranno quelle scritte Che abbiamo trovato Incise nel legno Nella stanza prima Vedi come ve la faccio Un po' Alla lore Tanto resentivo Di così Cioè tu devi Non ci sono Cutscene Esaustive Cioè tu devi Abbinare Quello che si trova Molto prima Di Dark Souls No E quindi L'UMB Chemical Che abbiamo usato Per Ah il VJOLT È semplicemente Un altro nome Un nome più comodo Più Piacevole Di chiamare Questo composto Numero 16 E distrugge Una pianta In meno di 5 secondi E bisogna E bisogna metterla Direttamente Nelle radici Noi abbiamo visto Delle radici Negli ultimi 5 minuti Certo che si Quindi che cosa Vi sto a spiegare A fare Quindi bisogna Mixare Un po' Un po' B-Chemicals To create To create Al VJOLT Però Possono Può girare Un gas Velenoso Che è molto Pericoloso Per il corpo Umano Ma qua ci sta Quindi Bisogna stare Con un'estrema Cautela Bisogna Maneggiarlo Molta con cura Certamente Oh perfetto E qua Ci spiega Effettivamente Cos'erano Quei numeri Dicevamo Due red No vi ricordate Poco fa Stimulating well E il number 16 E quello marrone Infatti dopo Verrà un composto Marrone Questo me lo ricordo E vabbè Niente che non sapevamo Già ma abbiamo Un po' Più di contesto Di quello che Dovevamo fare Prima non ce l'avevamo Però adesso Quello succede È una fila Di libri Lo vuoi sì Perché siamo stupidi Perfetto Bella sta Cazzin Questa posa Questa scusa Questa Anteprima Forse la userò Aspetta Quello si è aperto Questo di qua Scusatemi Prima andiamo Nel bagno Un attimo Perché mi piace Vedere i bagni Di questi dormitori E chi ci deve essere Se non Il solito Scienziato Le incendiary rounds Com'è che le chiama O flame rounds Ci scommetto Flame rounds Lo sapevo Come volevo Mi piace Indovinare come sarà La traduzione Oh bello Che c'è lo specchio Quanto mi piace Sta cosa E che flame Più rapido Incendiary No Troppo lungo Rounds Neanche Grenade Proprio rounds Proprio pallottoloni Pallottoloni Di fiamme Bene Ora che abbiamo Riempito Il nostro inventario Non possiamo fare niente Però andiamo qua Sicuramente qua ci sarà qualcosa Che ci sarà utile No Per creare quel composto No Ciao Bello il tema Di pianta 32 Decisamente Non ci interessa Andare lì Adesso Però se io Torno È aperto Sì puoi tornare Indietro Tu pensa Dun 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 Bella Bella soundtrack Questi No no Non ci interessa Adesso la pianta 42 È ancora attiva E Andiamo a creare Il composto Ma non mi ricordo Come si faceva Dove troviamo Questi Tipo L'acqua Ste cose qua Non mi ricordo Assolutamente Qua ci abbiamo Le bottiglie No Ok abbiamo messo Un po' di blu Di acqua Ci serve Il Acqua c'è Ok Grazie per la compagnia Adios Esatto Adesso dobbiamo fare Tutti i mix Possibili Non sono Tutti in questi Laboratori Quindi io In uno ho messo Dell'acqua Perché uno Più due Fa tre Adesso le prendo Tutte E poi vado A depositare Un attimo Finché Finché reggo Sto qui Il number Due In the empty Battle Yes Che L'acqua L'acqua A valore Uno Il red Se non sbaglio A due Adesso mi ricordo Così a memoria Senza che stiamo A riguardarci Quindi io faccio Water Più number Due E ho Creato Il composto Number Free Giusto Poi dopo C'è da fare Adesso sto andando A memoria Il Quattro Più Il Tre Se non sbaglio Il Purple Più il Green Cioè Aspetta Andiamo a vedere Sui file Perché Ah no Perché devo andare a vedere Sui file Che c'è scritto Qua Uno Io ho fatto L'uno Più Ah no Qua ti dice I valori Che li so già Green Purple E tre E green E quattro Questi sono Io ho fatto La prima boccetta La boccetta Tre Adesso devo fare Tre più quattro Che mi ricordavo E fa se Dai famo il tre più quattro E poi il due Due più quattro Adesso devo fare Il due più Ah no È tutto un escalation Perché io adesso Ho fatto il tre No E lo devo lasciare così Il tre Perché deve essere un Compo Perché Però anche C'è anche il tre liscio Se non sbaglio Giusto C'è il tre liscio Eh sì Purple È il tre liscio Vabbè Comunque Ne devo fare due Ehm Prendiamo Ah non c'ho Abbastanza spazio Vabbè Intanto facciamo Un'altra Comunzione Facciamo il tre Più quattro Che se non sbaglio È qui Yes E ho fatto il sette Esattamente E c'ho due empty Bordel Con le due empty Bordel Rifaccio Un altro da tre Perché Adesso devo fare Un po' Mi sembra più semplice La cosa Però no Sì Alla fine Si svuotano tutte Io adesso Ho fatto il sette Ma mi sono tolto Il Il tre Ma adesso il tre Lo rifacciamo Alla fine Facciamo Il due Più quattro Adesso E poi Rifondiamo Con il sette Poi dopo Rifacciamo L'uno più due Non ci vuole niente Che acqua Più il rosso Quindi adesso Facciamo Il tre Più quattro Io adesso C'ho il sei Giusto No c'ho il sette Allora non ho capito Niente Volevo dire Facciamo il due Più quattro Ecco quello Volevo dire Tanto se Se ne è uno Ne è l'altro Esatto Facciamo il due Più quattro Il quattro è qui Se non sbaglio Yes Bello sto enigma Non ci sbagliamo Quindi abbiamo Il sette E il sei Che rifondiamo E facciamo Il tredici Abbiamo fatto Il tredici Ma non c'è bisogno Di quattro boccette Scusa Io adesso Ce ne ho due disponibili Faccio Water Più red E l'ho già fatto Non servono Quattro boccette Forse perché Te lo Yes Quindi ne servono Tre di boccette Fondamentalmente Forse te ne da Quattro Per comodità Yes Yes Sto andando a memoria Sì Acqua più Rosso Fa tre E il tre Lo fondiamo Col tredici Fa sedici Abbiamo il composto Finale Globale Quindi Water Combinato Facciamo il composto Number three Il three Con il tredici Vjolt Abbiamo il Vjolt Perfetto Però io Prima di andare Dalla pianta Vuole un attimo Andare a depositare Tutte ste bottiglie Perché mi stanno Una scomodità Finita Che tanto E qui dietro Non succede niente Che bello Abbiamo anche Dispermiato Una boccetta Come siamo bravi Oh Sempre larga La prendo Ma la fine E dai ragni Cosa c'era Niente Acid round Il resto Teniamo tutto No Sbagliato Volevo The shells Ma perché uno Scusa eh Non ho capito Perché non le affuse Nell'uno Lo devi fare manualmente Invece Mi sa Dal tre E dal due Te le metteva Insieme Vedi Ma chissà Ma chissà se io posso È il massimo 21 Proprio Giusto per una curiosità mia Ah no Vedi Possono essere tutte In uno slot solo Boh Perché comunque c'è un limite Tipo 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 Però se i caricatori I colpi I colpi 9 mm Arrivano a 78 Voglio dire No Ok Abbiamo tutto quel che ci serve E andiamo Let's go Andiamo a provare A versare Questo Vjolt Nelle radici Della pianta 42 Poi cosa abbiamo fatto Un'oretta Dai Ancora c'è tempo Sono solo le 6 Io volevo cominciare Alle 6 Allora dai Si va ancora Si va Perché ho paura Di non riuscire a finire Entro la fine dell'anno Perché venire di prossimo Si giocherà sicuramente No Dobbiamo andare Nel basement Quindi un altro boss È evitato Questo è il tema di Neptune Mi piace chiamarlo Ma non so Se effettivamente Da molto l'idea Di essere sott'acqua Ho preso un colpo Eh Sarebbe da fare Una live Su Remake No ho sbagliato Dove andare Nella stanzetta blu Poi Per far vedere Ma qua ci sono altre porte No No Comunque Comunque quanto mi dispiace Che start Non funziona Vi ricordate Vi ricordate Nel primo episodio Ho dovuto Modificare Che con L2 Attivo il menu Come in questo momento Come non lo posso usare qui Aspetta Forse devo Ah beh Diceva di applicarlo Direttamente Nelle radici Si sono un po' seccate Sai che non so Cosa vuol dire Cosa vuol dire Non ho mai sentito Questa Vuol di seccato Tipo Non so Sweatered Whitered Come si pronuncia Whitered Chissà Se è irregolare Non lo so Sono molto curioso E mica faccio il finto colto Nel senso Questa non l'avevo mai sentito Sto terminologia Whitered Come è scritto? Quindi adesso Possiamo forse andare Dalla pianta Comunque se mi vedete poco È evoluta Che non mi piace stare Sotto la luce D'altro c'è poco da vedere L'importante è che si vede Una faccia Che racconta cose Non forse la cazzina Si triggera Quando dobbiamo tornare Alla villa Con le nuove chiavi Salvo perché ho paura Perché magari mi devo armare Ma in teoria È indebolita la pianta Non mi pare È indebolita Questa pianta Aia No adesso un attimo Esploro Vedi lui fa cadere L'acido Ok Facciamo così Carico No vabbè Provo Vabbè tanto son muo Voglio vedere se mi fa La fatality A sto punto No niente Ok Forse è solo indebolita Sto boss Tocca fallo Allora sai cosa faccio Vado a prendere Qualcosa di tosto Allora Vado a prendere Le granate Incendiare Tanto qualcosa Bisogna usare O il pompa Che abbiamo raccolto Un sacco di shells Però sicuramente Facciamo per bene Sicuramente Il Shinjimikami Avrà pensato Che il fuoco Fa più male Alle piante Sì Dovrebbe avere Meno vita Adesso non mi ricordo Qual era la questione Pensavo addirittura Che fosse morta Ma è esagerato Che muore così Il bazooka No E Non le acid Non le explosive Ma bensì No Scusa Facciamo un po' di ordine Ok Ok L'explosive Che sono quelle Già equipaggiate Di default Guarda cosa facciamo Il lighter Lo prenderei Guarda che bel Ordine Che facciamo Queste Le fondiamo Con queste Che però Questo Lo combiniamo Con quei No Non me le fa Sui giochi nuovi Te le fa scambiare Tipo Equipaggiava L'explosive Guarda che roba Non si può fare Equipaggiava L'explosive E le flame E le flame E ti dava L'explosive Così L'explosive Le fondevo Le univo A quelle già lì Allora niente Portamoci tutto E buonanotte Quindi quando ne sparo Sei Devo equipare Le altre Si ce le portiamo Tutte Ma si Alla peggio Torniamo indietro Andiamoci armati Di fine ai denti No Alla peggio Cure zero No Si c'è un airbit Tutto Tutto Aia Ma Ascora Ci prende O no Non capisco Aia Non da proprio Al limite Qua No scusa Lo fammelo Un attimo Rifare Perché Non ho capito Cioè Mi ha fatto Sprecare Mille granate E dopo Sono andata Hanno Wiffato Tutte Come si dice In un termine Picchiaduristico Il cavolo Perciò Cinque granelle Explosive Wow Vabbè Vabbè che Anche se Avessi usato La faccenda Di prima Non cambiava Niente Era giusto Per essere Corretti Ah beh Pensavo ci fosse Bisogno Dell'accendino Invece Non c'era scritto Che era Come dire Buio Ma semplicemente Perché Ero in boss fight Ok Allora Mi sono portato Diecimila granate Quindi abbiamo trovato Una mansion Key Quindi è ora Di tornare Sicuramente Non mi dire Che Helmet Armor Isaac Cosa mancava Helmet Armor Ah no Helmet La Helmet Key Quindi Sì Possiamo Tornare Visto che Questo è un vicolo Cieco E abbiamo visto Tutte le location Cosa Dobbiamo fare Dobbiamo tornare Indietro Oh No death run No Non è che roba Ho riavviato Così per Bambara Però tanto Il gioco è Abbastanza Semplice Wesker Jill So Che Il primo problema è gettere da qui. Sì, sei right. There are a lot of room in that mansion that we can't get into because they're locked up. I've been looking around for clues. Ok. I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you Una squadra dovrebbe stare insieme Al di là che voi sapete lo spoiler o no Che non ve lo dico però Perché Tipo si si Ah sei qua capito come una gitarella per loro Tipo ah io stavo qui sparando un po' di gente Non è che sono tipo tattici insieme No E' ovvio che è pericoloso Cioè nel senso non è che uno si Si sparpaglia con tutti questi mostri Insomma Quando bisogna chiamare esercito Non è realistica E' abbastanza credibile Però per il gameplay A volte si Si cade in queste cose Io però per tornare Alla nostra house preferita Guarda un po' cosa mi porto dietro Boh perché è ora di usare un po' più di potenza di fuoco Sinceramente Torniamo a Indrio Ancora c'è Dai un'altra mezz'oretta 40 minuti Giochiamo Poi magari chi guarderà da youtube Vedrà No ma non è vero Ho smesso prima No non lo so Adesso vediamo No ma non è vero Brad, lo so che non puoi rispondere, ma comunque, dimenticare un'altra cosa. Come? Questo è Jill. Brad? Oh, è bruciato! È still charged. Quindi Brad sta volando in lintone in tutto il tempo. Non so. Usiamo la shortcut. Ah no, non c'era. Sì, ma questa qui è una shortcut, ma tanto se non la usi adesso, quando la usi? Cioè, dov'è la batteria effettivamente? L'ho saltata? C'è una cosa nel muro? Non so. Vabbè, ma noi adesso non facciamo meta play, giochiamo come dobbiamo giocare. Dobbiamo tornare alla casa. Non so. Via via via, ci sellepisce, ci sellepisce. Oh, vai giù, vai giù. Comunque, a me da piccolo dà questa sensazione, tu sei sempre da solo, no? Però, quando incontri gli altri succede qualcosa, tipo gli eventi, tipo Wesker Berry. A me è gasava perché dici, ah dai, almeno mi aiuta, siamo andati avanti nella storia. Insomma, ti dava l'idea di avere un po' progredito nel gioco, no? E qua torniamo a dove, all'anticamera, dove dall'altra parte ci sono... Ehm... Dove abbiamo inserito quei medaglioni, quel resto che... Io non vi sto spoilerando niente per il fatto che io equipaggi uno shotgun adesso diciamo, lui sa qualcosa, vabbè. Anche se era di rettoscart, so cosa mi aspetta, diciamo. Anche se non ci gioco da anni, capito? Proprio una roba innata. No, innata, insomma, un ricordo abbastanza sedimentato. Quindi... Facciamo finta di niente, però... Dove dobbiamo andare? Dove era helmet? Possiamo andare sicuramente in fondo alla strada, lì. Vedete che ancora c'è una stanza non verde. Ah no, anche qua... Ah no, anche qua... Subito ce n'è una non verde. Dove siamo noi nel rosso? Magari subito qui si può utilizzare. Vedete, lui ha usato la shortcut, questo essere. Bene. Passa qui, guardate quel pezzo di prima però in 3D. Chi è? La so giocata malissimo. Mi sono cura... ok. Questi sono gli hunter chiamati. Non come li chiamava mio fratello? Gli uomini run. Quindi per me da piccolo sono gli uomini run. Sono, mi penso, i nemici... Forse dei nemici standard più tosti del gioco base. Cioè, non del gioco base, insomma, togliendo i boss. Perché hanno un attacco one shot. Oh, l'ho appena messo via. L'ho appena messo via il... Niente, è troppo buio. Ah no. Ok. Pensavo di usare l'accendino, cavolo, l'ho appena messo via. Yes, yes. Mi piace quello che trovo. Quindi gli hunter sono fighissimi. Poi dopo nei capitoli successivi ci saranno hunter beta, che hanno più la faccia da rospo. In effetti forse gli hunter... Non lo so. Altri tipi di hunter. Qua cosa c'è? Libro dell'Apocalisse. Qua è tradotto Doom Book? Sì, tanto il libro... Va bene, è uguale. Cioè, non è il libro di Doom dell'ID Software. Proprio il libro del Doom nel senso di Apocalisse. Ma voi siete intelligenti, l'avete già capito. Andiamolo ad analizzare. Ma proprio qua c'è scritta un'altra roba. Perché nel remake è il libro dell'Apocalisse, sono sicuro. Aha! Eagle Medal. A medal from the first Doom Book. Ah, infatti si chiamava... L'Eagle of the West. Ah, cos'è che c'era? Wolf era da leggere. Vabbè, voi potete mandare indietro perché... Dopo adesso ci sarà da inserire sicuramente questa roba. E la Eagle sta Est e... Il Wolf sta West o viceversa. Salvo un attimo perché adesso... Voglio andare un attimo qui... A ripositare un po' di cose. Ma adesso ogni... ogni... Dove c'erano gli zombie? Chi ci sarà mai? No, ma... Niente di eccezione unicee. Ma te me le hai descritti come il male intera. No, vabbè, si ammazzano, eh. Oh, grazie Barry. Mi ha messo... Questo è un messaggio di Barry. Mi ha detto che mi ha messo un po' di ammunition. Oh, ma guarda la roba. Mi ha messo le acid round. Un po' di shells. C'è un po' di tutto quello che ci piace. Proprio ci coccola il buon Barry. Fammi depositare un po'. Non c'ho voglia di unire le acid round. Queste ancora non le possiamo usare. Quanto mi piace il termine rounds anziché tipo ammo oppure... Non so, bullet. Teniamo tutto oggetti chiave. Due armi e due oggetti chiave. Questo lo prendiamo. C'ho una green herb quasi che... Sì, qua l'avevamo visti già. Adesso io terrò sempre il pompa di default perché non me ne frega niente. Però adesso un attimo capiamo dove andare. Usciamo e poi studiamo un attimo la mappa perché la helmet dov'è che era? Perché dopo di sti giochi ti frega così anche su Dark Soul. Ti hai trovato sta chiave. Ma chi si ricorda dove erano le... Le porte chiuse. Ok, qua c'è rimasto... Quella lì a destra... È la porta dei costumi segreti che è per il New Game Plus praticamente. Non... Quello che adesso si chiamerebbe New Game Plus. Insomma che devi finire almeno una volta gioco non ci interessa. Che è la stanza quella con lo specchio che vi ho fatto vedere. Molto carina. Quella in fondo mi pare del corridoio a sinistra. Quella che è una C rovescia. Una C verso sinistra. Dove c'è quella... Quella specie di... Quella è un ascensore. Vi spoiler. Quella in teoria non si apre. Quindi io cosa devo fare? Devo andare a guardare. Mappa... Del second floor. Oh... E qua c'è la ciccia perché... Ehm... Io adesso vado su... Vado al second floor. Esco da lì. E vado lì. Perfetto. Chiaro no? Voi avete capito sicuramente dove... Il percorso che ho... Progettato nella mia testa. Ma qual è il bello di guardare chi gioca? Che non dovete fare questo sforzo. Qua c'è una prediction... Dei nemici. Sì. Quanto siete simpa. Quanto... Quanto… 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 Il design Cioè non è che devo andare a fare chissà cosa Subito qui ti faccio Tu adesso di predefinito Questa è una scia che devo seguire C'è già subito qui una porta Qua c'è un hunter Sarà meglio per voi Perfetto Andiamo Let's fucking go Allora ma così indietro la diretta Io ancora stavo guardando qui Devo aprire Ero alla porta prima Non mi ricordo nulla Ma ho paura Perché questo C'è qualcosa che non mi piace in questa stanza No non è vero che non mi ricordo Io so benissimo cosa c'è Aia Aspetta per favore Io si ricordo che dovevo cadere qui Invece no Forse ci vuole una corda Vabbè Vabbè Buco Fammi pensare Però nel buco No invece si Proviamo ad affrontarlo Ti dice ma Porta le granate Vabbè Vediamo Proviamoci una volta così For fun E vabbè E vabbè No Perché io volevo Sparare e correre Però no Facciamo No Ci voglio riprovare col pompa Non penso che ci vogliono Tanti colpi Perché mi ha bloccato lì Aiaiaiai Aiaiaiai Perché poi i boss Non sono obbligatori Però secondo me Non ci devo andare lì Cioè nel senso Non mi faceva scendere Forse Dopo che l'hai sconfitto Puoi andare nel buco Non mi ricordo Vabbè Ci voglio provare Dai Perché devo trovare Dei Dei pattern Tanto qui Tanto qui Aiaiai Stavolta Ma per Di Dei 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 Dai Ho sbagliato Mi sta caricando No Mi stavo cercando Per l'attacco finale Niente No però Non lo so Ci penso Comunque basta Andare sotto Prendere le granate E lo facciamo Però voglio riprovare Un'ultima volta Col pompa Che mi dava gusto Perché due volte L'ho missato E mi roga Mi sbagliato Ero 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 Dai, mi sono scansato Ho sbagliato Abbiamo sconfitto Yarn Anche se sono in danger totale Aspetto che si degrada Guarda che bulla col fucile così Bene Non ci sono venuti molti colpi Oh, ok Non so, un serpente mi ha attaccato Ah, grande Grazie Barry Però sono in danger Ma sai che ho un vago ricordo Che anche quella volta Ti dici Ti fa andare Ecco Ora ho fatto Scusate Jill Aspettate Andrò 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 In quel Oh, in quel buchetto lì Ma Caspiterina Una tomba Eh, è certo che la premiamo Sempre più susse Eh, per forza Siamo bloccati qui C'è un po' paura Siamo in danger Vabbè che salviamo ogni volta Però C'è un po' paura A me è proprio Finita l'animazione Poi mi sa che è una versione un po' censurata Forse è dal 2 Ah no Che fa vedere il cadavere così Pensavo Dal 2 in poi Invece solo perché prima sono morto In un modo più eclatante Quindi Oh my god That was amazing A poi guarda T'ho avuto Shells Qui Sicuramente sono a un basement Se Se col buco Siamo scesi al primo piano Ecco Già sento rumori Che non c'è Ecco Sono al B1 Che sono due corridoi Per ora Come avete visto Ciao ragazzi No dai Mi fa sprecare il pallotto Così Su quegli altri Potevi sconfiggerli Volevo Speed run Oggetto Guarda Wow A metà Era solo Per prendere Queste due Herb Bella Bella azione Sì Mi ne sparo due Così Dai E qua finisce Ah L'abbiamo sbloccata Vediamo da dove Sbucchiamo Ah no Poi mi sa che è un luogo nuovo Perché al B1 Non ci siamo mai stati La cucina Ho capito dove siamo Ho capito C'è questa musica di tensione Sembrava chissà chi Però mi ricordavo che era solo un Il semplice zombie Quindi niente da trovare qui Ovviamente Però almeno gli abbiamo staccato la testa Non ci volevo entrare subito Ricordate quell'ascensore che vi ho detto Prima volevo andare dall'altra parte Adesso vi spiego perché Mi spiego assolutamente Quanto mi piace sta gabola del pompa Che se te Mi puoi shottare così Da dove è entrato Quello zoom in cucina Proprio addirittura Col full motion video In verità Sblocchiamo una shortcut Se non sbaglio Ah si ciao Oh Guardate L'hai sbloccata Guardate dove siamo Proprio in fondo Poi non corrisponde Era una porta doppia Qua sembra Singolo Al corridoio iniziale Qua sento dei passi E' sicuramente un hunter E noi ci dileguiamo Poi a parte che sono in caution Quindi Sono soggetto all'attacco Letale Però se io prendo l'ascensore Da qua Si può Ah sembra non fermarsi In questo piano Ci sta Penso che L'hanno pensato proprio a tutto Ok siamo all'una A un'ora e mezza Adesso è il prossimo punto tranquillo Che io di predefinito ci dovrei arrivare Hoven Al prossimo punto Pedefinito dove c'è una macchina da scrivere Faccio il filtro save E continuiamo la prossima volta Però comunque siamo arrivati Al ritorno alla casa Praticamente Poi fa a dire Perché abbiamo fatto Una puntata Metà casa Della prima parte La seconda La seconda metà Arrivando alla casa del custode Oggi tutto casa del custode E un po' Della nuova Però adesso Voglio della mappa Questa è una zona totalmente nuova Possiamo sì andare lì Però di qua Sembra autoconclusivo Vabbè Andiamo prima in questa qua Magari è un È una zona easy Questa Wow Granate su Ah c'è la La batteria Esattamente Le granate non le prendo Per Da tenere conto Che qua ci sono Sicuro me le scordi Ma tanto Siamo già pieni di roba Sufficienti per finire il gioco In verità Mi credo Ho visto A Gino Il pallinus Oh yes Sorry sir Sì Yes Non lo voglio disturbare Ma sta stanza è proprio tutta così Sì Ma che sia questa Nella remake che c'è l'armatura che ti insegue Non si capisce cos'è Ah sono due luci a caso In fondo del corridore Ma questa è semplicemente chiusa E dove sta? Almeno vedo se corrisponde a qualcosa Ah è quella col codice Questa Vi ricordate c'era un codice? E niente dai torniamo dall'altra parte Beh che senso ha che io Non ci vuole il codice Sono già dall'altra parte Per sbloccare la scia Orco miseria Unexpected Ma sono ancora su fine Guarda Quindi qua abbiamo esplorato tutto Andiamo Qua ci dovrebbe essere una porta No non la voglio Vabbè dai sì La prendo La uso dai Che se ne frega Mi ricordavo ci voleva la corda Per scendere in quel buco Ma non mi ricordavo Te la desse Berry Oddio qua dove siamo? Ah qua c'è solo una possibile uscita Che è quella porta lì Ma andiamo ad esplorare cosa c'è Tutto polveroso Infatti qua dice che c'è una stanza Ma forse bisogna spostare qualcosa Guarda come non me lo locca Non me lo loccava perché può essere dall'altra parte Raccoon Times Perché siamo nella città di Raccoon City Questo sarà il quotidiano Un animale Cioè attacco animale Una donna mutilata Una ventenne praticamente è stata trovata Vicino al fiume Marble River In the Cedar District Of Raccoon City Marble River C'è un fiume di Raccoon City La polizia pensa sia un grizzly O un altro tipo di animale Perché in base al marchio Cioè insomma i segni dei denti Dei artigli Ha detto Siccome aveva gli stivali Da trekking Dice magari è stata attaccata Sulle montagne Arklay Che è poi dove siamo noi Dove è ambientato questo gioco Dove è la magione Della mansion Magari è caduta nel fiume E poi è stata trasportata No in pratica E stanno tentando di Identificare la donna Sono mostri nelle Arklay Quindi sembra che ci sia qualcosa Qualcuno dice di aver visto dei mostri Nelle montagne di Arklay Della grandezza di un cane Oppure non so Un Oddio perché c'ho sempre Gli svarioni Pax sarebbe tipo Non mi viene mai Niente Quando sono in live Niente Vabbè dopo ve lo dico Pax è tipo Non un pacco Non la tribù Non il garage Ma Vabbè Quindi diciamo Potevano essere solo Dei cani selvatici Perché sono particolarmente Feroci E fanno molto male Insomma Hanno trovato delle ferite Che secondo loro Non sono No? Così Cioè poi I cani non ti disturbano Insomma Non ti vengono ad attaccare A meno che tu Non Non li aggredisci Comunque non sei aggressivo Con loro Quindi dice di stare Un po' lontani Però se sei in cerca Di avventure Non lo consiglierei Ai cittadini Visto se ci sono Delle cose Quindi Ci sono altri misteri La strada di montagna È bloccata Stanno cercando Per I membri Del team stars Cioè noi Scomparsi No scomparsi Ah sì Infatti siamo stati mandati Noi siamo L'alpha team Siamo andati a A trovare Il bravo team No? E dicono che Addirittura Persone Riclamano di aver visto Mostri grotteschi Enormi Branco Pax E branco Di lupi Non mi veniva In mente Capo branco Sai che se stanze Non me le ricordo Per niente Cosa devi fare? Oh bellissimo Si vede già Un anticipation È un helicopter È un helicopter Port Si vede da qua Bellissimo Se solo potessi contattare Gli altri membri Da qui E non li posso contattare Magari era un hint Per dirti Per dirti Usa la Oh ma non l'ho schiacciato Stavolta Se solo potessi Vabbè un magazine Un clip Sempre comodo Bello che si scopre Che tu puoi già vedere L'heliport Dici Ah quindi Forse c'è Forse C'è una via di fuga E qua siamo Nell'ultima stanza utile E anche questa è autoconclusiva Ma allora dopo Dove devo andare? Questa sembra La statua Che devi spostare Nel 2 No è diversa Era Ok che ho trovato Lo switch Ma posso Ah si accende solo La luce Eh no E allora che Ma aspetta C'è qualcosa Ah ok No ho sbagliato Devo resettare La stanza Non avevo capito Che c'era Ok devo spostarci La statua Infatti mi sembra Stanto Quando mettono Ste cose Da spostare Di solito Ma dai L'avevo messa Precisissima Vabbè ho capito Che lì c'è la hitbox Della statua Con l'interruttore Che è esagerata Vabbè L'avevo messa Proprio sulla riga Della mattonella Ma non è stato sufficiente Shinji Mikami Non ce lo perdono Che è Stora volta c'è uno zombie questi laboratori questi ricercatori sono sempre più strani il modisk famosissimo mi ricordo da fiolo c'è il modisk ma io voglio sapere esattamente cosa serve questo modisk, cosa è cosa vuol dire una volta l'avevo scritto ah uno start up disk si come un boot disk è vero che non abbiamo trovato niente di nuovo quindi dici dove devi andare se sei bloccato qui però abbiamo la batteria quindi magari vabbè a parte che possiamo finire di esplorare con la helmet key e quindi è quello che faremo di là perchè non si potrebbe andare? ah perchè arriviamo dall'altra parte della porta col codice giusto? cioè io so sicuro ma ci guardo per sicurezza esattamente arrivi lì quindi cosa facciamo? prendiamo l'ascensore e torniamo alla shortcut che ho preso prima quindi niente era inutile perchè potevo sbloccarla adesso la shortcut dove era entrato quello zombie di prima vuol dire se si vedeva bene la luce poi basta non 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 Grazie. Oh! 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 No, mi hanno fatto l'instant kill. Ma hai visto che dopo un po' sono... sono andato in un loop che... niente. You are... there. No, you died. Il trucco è sparare a go-go. Io perché volevo far piano, volevo far vedere... niente. Appena cambia angolazione... proprio sette colpi per due hunter, più che onesto. Oh, bisogna trovare la gemma rossa per poter... prendere la magnum, eh. Ah, quel cadavere. Ah, beh, c'è la foto della mansion, non lo sapete. No, qua non ci mettono, è un luogo safe, non ci mettono... eh... gli hunter, per carità. Però bello che sto fatto che appunto i nemici saggionano, sennò... Vabbè che in realtà... si potrebbe salvare... fintamente qua. No, ma andiamo un po' avanti. Senti come... il vento... soffia forte nelle finestre. dai, che poi c'è... no, perché ancora non c'ho tanta fame, in verità. Allora... per vedere la mappa. Nella 1 abbiamo visto tutto. Sì, quello lì abbiamo detto che è per la schiave speciale. E qui andiamo lì. Perché dopo lì ci ricolleghiamo, è l'unica stanza rimasta. E poi dopo... andrei... a inserire questa benedetta... quella è la gioconda, sicuro. No, non è vero. Ehm... Questa benedetta batteria. Qua ci sono gli Hunter, 100%. Ecco. solo che lì ci sono andato proprio a cannone. suona, sono, ci sono gli Hunter. Questa è una… un'errore... Vado all'angolo Ehi tu Eh finchè c'è la hitbox io sparo Cioè solo che per un attimo si è incastrato Lui siamo finito Di pompa a forza Però abbiamo fatto fuori tutti gli hunter Quindi va benissimo Va più che bene Poi abbiamo tutte le granate Cioè la voglia Non ci sono così tanti nemici in sto gioco No non mi dichi che ci sono pure qui Ah si Guarda me lo punta da di là Osteria Voglio fare una prova Ah me lo fa colpire da di là Bellissimo No Te lo fa colpire Da di là Incredibile Questo gioco mi ha stupito molto Oh Così liberiamo ben due posti Ti immagini il codice che bisogna inserire Allora vediamo cosa c'è qui Ah ho capito Sì Oh è di Nip Top Secret Il giorno X sta arrivando Completate gli ordini prima che della fine della settimana Attirate i membri della STARS nel laboratorio Dove devono combattere queste BV Qualcuno di cui ti dice tutto Spogliere la trama del gioco Così da ottenere No I dati per i combattimenti Insomma dovevo fare le ricerche Questi giustamente fanno combattere contro militari esperti No Bisogna collezionare Tieniti due embrioni per BV In modo che Da includere tutte le specie Ad eccezione del Tyrant Che cos'è il Tyrant? Poi puoi distruggere il laboratorio Arclai e tutto quel che c'è In modo che sembra tutto accidentale A posto White Umbrella Attenzione Sai che questo dettaglio non me lo ricordo Perché c'è anche la Red Umbrella Perché il logo è Sai questa Ti giuro non mi ricordo Allora Molta calma Qua ci so dire C'è diversa roba su cosa Abbiamo due slot Dici Vabbè Ma cosa Ti faccio vedere Ti dici Ho spinto sta cosa Sarà per andare dal cervo Ma dal cervo cosa ti dice? Nothing important Vabbè Allora cosa fai? Spegni la luce Guarda un po' Oddio Vabbè che la palis Dici Voglio vedere Com'è Spegnendo la luce Guarda che roba Incredibile Vuoi provare a togliere Il bulbo oculare? Certamente E guardate un po' Cos'è La famosa Gemma rossa Che ci servirà Per la Magnum Infatti Inclusi Inclusi già nella pistola E andiamo Oddio Adesso vado qua sotto Faccio le ultime cose Deposito un po' di roba Vado a prendere i colpi Dello shotgun Aspetta Ti vuoi provare così? Ah ma proprio non te lo fa neanche inserire Quindi non lo so e basta Forse ho mancato un documento Non lo so Perché tanto non ci interessa Ritornare in quel posto Forse nella campagna con Chris Ah qua ci sono degli Hunter Mi sa Almeno posso accedere Al salvataggio Senza Ogni volta Far la corsa contro la morte Vado a riprendere le shell Carico il pompa E salvo E ci siamo Quanto è bello E niente Questa è la terza parte Mi sa Quante volte abbiamo giocato Sì No volevo dire una cosa E niente Dai la prossima Arriviamo Far farà sì che riusciamo a finirlo La prossima volta In due ore Così a voglia Poi magari la facciamo un po' più lunghetta Dai non penso ci sia rimasto molto La casa è tutta Esplorata Ma come no Non mi fare questi scherzetti Alla fine le shells Le abbiamo usate tutte Ce le abbiamo accumulate Tutto il gioco E alla fine le abbiamo usate Tutte per gli Hunter Ma va benissimo Faccio anche il finto salvataggio Cioè in realtà è il vero Solo che noi abbiamo usato i quicksave Fino adesso Però Per sicurezza Magari si esplode l'emunatore Esplode il quicksave Ci abbiamo anche quello Della rom Diciamo Oggi diverse visite Ma nessuno Ha avuto Voluto scrivere niente Peccato Ci abbiamo le memorica Dov'è la memorica Di non vedo nessuna Dove ho tratto a stare in quest'anteprima Che mi piace Da qua No Vedete come stava Va meglio qua E niente F1 Giusto E niente Finita La terza parte E grazie per chi c'è stato Per chi c'è Per chi ci sarà Anzi per chi c'è Per chi c'è stato E chi ci sarà E ci si vede Alla prossima volta Prima delle feste di Natale Per l'ultima parte Speriamo La lasciamo bene E potete recuperare Episodio su Youtube Chiaramente E Oppure se invece State guardandovi su Youtube Sappiate che Sono qua su Twitch E Per seguirli in diretta Chiaramente Eppure tutte le domande Ok dai Bella lì Buona Ci vediamo alla Prox Buona buona Oh perché non mi fa chiudere Ok Buon Buon Natale Buon Natale Buon Natale